E' buono l'asnatto? Togliere i capelli da me Come va? C'è la Gemma? Buonissima Come? Gemma c'è ancora? Io metto Nonno quando? A che nonna? Io Scusami ma C'è qua si vede copiare l'ello Questo l'ho piccante, io proprio mio amore Che facevi? E il ginocchio è venuto da Francesco No? Non lo girò Dù Du Da Di Vi Di Vi Piccini Mi Mi Si Vi E Mi c'è la via Il di che fanno pizza e migliare la cacosi 10 minuti metti 10 minuti ralas 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 personologi ralas 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 massimo si amma ralas 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 aqua supa 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 ralas ralas salto supa ralas 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 Siamo fissati con i capelli, sono fissati con i capelli. Ok, noi figgiamo il nudo in prima. Ok, noi figgiamo il nostro canale. con il suo amato ok metti la melo di tassa di un occhio piano quando per te ho fatto la giubaterra si no proprio in mezzo quando sei mesi o io l'avevo fatta a mamma e mia mamma quanto non mi aveva dato cosa dici? ora se il dia mio mi avrebbe detto eh perché tu per te lo vuoi è quasi la mamma tu dici mamma mamma vado a dire che io con Massimo è fatto i noodles noi lasciamo adesso fai la suppa adesso io vorrei mettere poco acqua l'acqua rata vado a dire ok 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 bolle mettiamo carne di maiale mella acqua l'acqua l'acqua qui qui è con sedano anche pezzemolo anche pezzemolo non 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 è buona perché la portavamo a casa la focaccia ok quando ci diamo poi fai l'insalata quello non mangiamo stamattina c'è Giuseppe che cosa è una borsita che cosa è una borsita non lo so un attimo non lo sapeva e gli ha consigliato una visita ortopedica è l'altro il ginocchio si ricordava di lui ma quale era il ginocchio quando sei venuto tanto o tanto fa a chi è il ginocchio? a come pare che si chiama a chi è il ginocchio non lo so d'accordo ducca di di ducca fanno let's go edu l'õi per farlo, è pronto e per farlo, per farlo, per farlo. Per farlo, per farlo, per farlo, per farlo. Poi, vedi a fare una pietra, non lo so, non lo so. Per farlo, non lo so, non lo so, non lo so. Come va? C'è la gemma? Buonissimo! Come? Gemma c'è ancora? Io metto? Nonno quando? A che nonno? Scusami mamma, qua si vuoi copiare l'ello Questo l'ho piccante, io voglio fare Volevo prendere tutto il cuore Vedi, vedi, vedi Cioè, quelli... Concelerano i compiti informatici Mh Ah, qua non so dove fai ne? Volevo prendere a fianco Volevo prendere le braccia diverse Volevo prendere le mani informatici Volevo portare una carta copiativa a un certo punto Sì Volevo prendere i compagni miei Volevo prendere i compagni Volevo prendere i compagni Volevo prendere i compagni Volevo prendere i compagni Compresa? La carta pepare... E' la carta di carbone Non l'ho mai pensato comunque No Tu copi avvi già? No, era accoppiato da tutti questi anni. La professora mi ha avuto paura di professore. Allora, la tv è accoppiata. Matematica, no? Questo io ho tappo delle probabilità. E ci stavano due bravi, ma anche se Giorgio date. Quale? Qualcuno? È diverso il caxidonico. Uguale a tutti quanti, la stessa parte. E io faccio il famiglio mio, no? E tutti quanti, perché questo è Giorgio e questo è Mario, questo va in un altro modo. non ci troviamo alcuni risultati. Facciamo noi. Ma si viene o cosa? Un po' di bambisca. Buon appetito. Buon appetito. Mando quello è un po' piccante, questo no piccante? No, prima sì, questo piccante, questo no, solo va da due e questo cinque o sette E' un caloccio? Abbiamo fatto oltre le linee a passi. Ma quanti calorie abbiamo brusole? Ma quanti calorie ci sono? Non posso fare un po' piccante? Io ho fatto il pulire a passi. E' proprio perché al seminario ho camminato di più e poi dopo a due o tre di meno, io gli fai meno passi. no ora non fa più di qua come dire non sta come è basta avete visto la nostra buona di guanna no no basta guanna no questo per un giorno un po' di pizza 10 euro non voglio bere qual è il cazzo? eh 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 vedi che ti fanno male gli occhi Massimo no la pizza è uguale 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 oh zia vieni qua vogliamo salutare ti voglio salutare eh vieni pure che salatta ah è uguale Sando ciao sia Sandro hai perso 9 mili davvero non hai perso 9 mili ma ne ho perso hai perso ah le hai persi ah e è sceso sotto i 90 ma sta pirulando e lo stai facendo? questa roba si per farlo ingrassare e c'è e vabbè vedete tutti poi chissà seguo il cornetto che ci siamo mangiati stai mettendo pure un cornetto guarda c'è pure quel 18 secondo me non posso 10 di mangiare? 324 e infatti l'altro 6 uno pari o che babba 19 di 188 e vanno a correre e c'è fanno finta di non sentire che cosa? che vi fate venire senza di colpi andare a correre la mattina e questo è va bene buon appetito ciao 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 francese ciao 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 direttamente in dove c'è ogni 20 mila passi quando vedi 60 kg 60 kg 80 kg 80 kg è quasi preciso nonna tu vieni mangiare tu vieni 100 kg ogni 20 mila passi ogni 20 mila passi ok io consegno quando vedi 60 kg 80 kg devi usare così è buonissima mangiate sì box o no? ah box io non so se me lo devo mangiare un po' di parmozzo sì certo e mangi più che piccante si mangiato vai salutare noi ciao 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 Ciao